Il marmo, nobile e prezioso, rappresenta da sempre un'eccellenza del made in Italy nel mondo. Il suo mercato garantisce la sopravvivenza di centinaia di aziende, insieme al benessere economico degli uomini e delle donne, quotidianamente impegnati nella sua lavorazione. Eppure, quello del marmo è un mestiere molto pericoloso. Cade, cade, cade! Lavorare alla pietra significa affrontare il rischio e la fatica di un ambiente estremo, come quello della cava. Ah, si usa la forza, eh? Tutta non fiata, non mollare, non mollare, eh! Il successo si raggiunge superando le difficoltà e le sfide di un comparto sempre più competitivo. Non è un lavoro per deboli di cuore. Per dimostrarsi alla sua altezza bisogna essere uomini di pietra. Per dimostrarsi alla sua parte.